Un cortometraggio sulla violenza di genere lo hanno realizzato gli studenti di un liceo napoletano, il servizio di Vittorio Marotta. Sai che è colpa tua? È solo colpa tua. Te lo sei meritato. Riconoscere le manipolazioni e i primi segni di violenza prima che sia troppo tardi, condividendo le informazioni con le persone più care, le istituzioni e i centri di assistenza. Scossi dal brutale omicidio di Giulia Tramontano, spinti da quella voglia di reagire tipica dei ragazzi, gli studenti del liceo Sbordone di Napoli hanno ideato, sceneggiato e prodotto un video sulla violenza di genere, sotto la guida dei docenti e della dirigenza scolastica. In Italia ogni due giorni una donna viene uccisa. I dati del Ministero dell'Interno tracciano uno scenario inquietante. 55 le donne vittime da inizio dell'anno, 45 in ambito familiare e affettivo. Di queste, 26 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex compagno. Riconoscere la violenza in tempo può fare la differenza. Non è colpa mia, lo giuro, non è colpa mia.